Siamo a Perugia alle finali nazionali delle Olimpiadi Italiane di Astronomia e qui con me ho i cinque finalisti della categoria Junior 2 e Senior che andranno a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia che si svolgeranno a Matera nel prossimo autunno. Ho per loro un po' di domande. Ad esempio vorrei chiedere ad Andrea come sono andati questi tre giorni di Olimpiadi? Questi tre giorni di Olimpiadi in cui siamo stati qui a Perugia sono stati comunque per me un'esperienza molto importante, molto bella sia ovviamente per quanto riguarda le gare ma anche per quanto riguarda l'esempio il lato e la socializzazione. Ho conosciuto molti ragazzi della mia età come me che anche loro magari sono appassionati all'astronomia e quindi mi è piaciuto molto, è stata un'esperienza veramente piacevole. Un'esperienza intensa e piacevole quindi non solo di astronomia ma anche di tanta amicizia e come giustamente ha detto Andrea di socialità che insomma di questi tempi ce ne vuole giustamente. Bene, invece volevo chiedere un po' agli altri partecipanti se vogliono raccontarci qualcosa, se hanno qualche aspettativa sulla finale internazionale, se hanno qualche desiderio oppure cosa li ha spinti ad arrivare fino a qui quali sono stati le motivazioni a voler partecipare a queste Olimpiadi. Partiamo da Matteo. Se posso essere sincero quello che più mi ha spinto a partecipare alle Olimpiadi un po' riprendendo il discorso che ha fatto Andrea è stata l'amicizia che ho instaurato in questi anni di Olimpiadi di astronomia con tutti gli altri finalisti, tutti gli altri partecipanti il sostenersi anche quando uno gareggia l'uno contro l'altro il sostenersi, il aiutarsi per condividere questa passione, questo amore che abbiamo per l'astronomia quindi se c'è qualcosa che mi ha spinto ad andare avanti e anche ad alzarmi quando sono caduto è stato proprio questo. Grazie Io vorrei avere una motivazione migliore di quella che ho comunque, visto che il primo anno sono stato iscritto senza che io lo sapessi e ho vinto comunque quindi il secondo anno di conseguenza devo comunque farlo, impegnarmi un po' anche perché effettivamente amo questa materia mi affascina molto ma no, non è l'unica ragione per cui ho fatto questa gara No, non posso dirlo D'accordo, una motivazione che rimarrà segreta allora quella di Riccardo Bene, Raffaello vuoi raccontarci qualcosa? Allora, in questo periodo che sono stato qui a Perugia ho conosciuto davvero tantissimi ragazzi da cui Riccardo ad esempio abbiamo socializzato e mi è piaciuto molto questo lato delle Olimpiadi oltre che quello delle gare poi è stata un'esperienza che mi porterò veramente per tutta la vita anche perché simboleggia il mio amore per l'astronomia Grazie Mi sposto di qui Per quanto mi riguarda ho iniziato lo scorso anno con le Olimpiadi di Astronomia diciamo anche un po' per caso però mi è piaciuto molto sia l'argomento diciamo che è affascinante ma anche l'ambiente in sé proprio anche questo clima di amicizia che va anche oltre la competizione infatti ho trovato una sana competizione e quindi Bene, grazie ragazze e ragazzi e divertitevi e soprattutto in bocca al lupo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti